Questa sera un concerto di beneficenza? Sì, questa sera è la terza edizione di questo concerto di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto intramente al reparto di ginecologia e istitrice dell'ospedale San Giovanni Diri di Crotone. In questo concerto vede protagonisti gli avvocati del fororo crotonese che parleranno tutti la stessa lingua. Tanti avvocati una sola causa, quello appunto della beneficenza, di questa raccolta fondi che destineremo appunto all'ospedale. Si esibiranno tanti avvocati in un repertorio complesso che spazia dalla musica classica alla musica leggera, dalla musica inglese a brani di Natale. L'orchestra del Gravina, composta da oltre 50 elementi, accompagnerà gran parte del concerto, mentre la restante parte varrà accompagnata al pianoforte dai vari maestri con le chitarre e con il basso. Avvocato Laratta, lei canterà questa sera? Certamente, certamente note fuori udienza e il terzo anno, e per il terzo anno sono presente e sono felicissimo, felicissimo perché note fuori udienza è per beneficenza, quindi ci divertiamo e serviamo. Che cosa canterà? Canterò tre canzoni, canterò September Morn e canterò insieme ad un gruppo musicale di ragazzi bravissimi, Wish You Were Here dei Pink Floyd e concluderò con Torna Surriento con il caro mio amico Tenore che è veramente bravissimo. Siamo una serata di beneficenza, una serata di spettacolo, una serata che ci avvicina sempre di più al Natale. Senza alcun dubbio, è il senso che abbiamo voluto dare a note fuori udienza e grazie a Dio il pubblico risponde. È sold out, quindi i biglietti sono stati venduti tutti, quindi speriamo di avere raccolto molto per il reparto di ginecologia dell'ospedale civile di Crotone.